Come potete vedere il bar è chiuso, abbiamo deciso stamattina di tenere chiuso, visto il decreto letto ieri sera dal governo, perché? Per tutelarci e per tutelare i clienti del bar. È stata una decisione importante, perché non è facile, non è facile per chi lavora ovviamente, però abbiamo voluto dare un segnale importante. Abbiamo deciso di seguire la linea, io resto a casa, fatelo anche voi, facciamelo assieme, non è facile per nessuno, però in questi momenti dobbiamo essere uniti e dobbiamo essere persone responsabili. Qui, come potete vedere, abbiamo la nostra invenzione, la famosa rete da cantiere che abbiamo preso io e un amico quando eravamo qui al bar. È stata una cosa gogliardica, quindi i clienti l'hanno subito percepita con un messaggio positivo, perché in questi momenti ci vuole anche questo. È il nostro lavoro, quindi dare qualche momento di serenità non è facile, ripetiamo, però siamo qui. Siamo già d'accordo con il sindaco, il nostro sindaco Mason Cesare, che non appena passerà questo brutto momento, verremo a fare il taglio del nastro o il taglio della rete, vedete, chiamatelo come volete.